Produzione di biogas dagli scarti di lavorazione dei gamberetti, qual è stato lo scopo del suo studio? Lo scopo di questo studio è stato di indagare la possibilità di utilizzare anche questo tipo di substrato per la produzione di biogas e anche di provare ad utilizzare una comunità microbica che sia rinforzata con delle componenti ottenute da ecosistemi naturali, quindi di spingere la produzione di biogas e ottenere un'elevata concentrazione di metano nel biogas da questi scarti attraverso una bioaugmentation della comunità microbica. E qual è stata la metodologia di analisi? Noi abbiamo condotto l'analisi a molti livelli perché abbiamo dovuto indagare circa la produzione di metano, che cosa si rilevava nel mezzo di cultura in termini di acidi, prodotti come intermedi del processo e poi soprattutto noi alla fine, questa è la parte più innovativa del nostro lavoro, siamo andati ad indagare la densità cellulare, quindi l'entità della comunità microbica e anche le caratteristiche essenziali della comunità, della GILD che all'interno della comunità produce metano. E quindi quali risultati avete raggiunto? Diciamo che i risultati più interessanti sono che noi abbiamo visto che è possibile utilizzare questa tipologia di scarti e che facendo dei test incrementando la quantità di substrato utilizzato noi abbiamo una corrispondente incremento nella produzione di metano e siamo arrivati al valore medi del 72% ma anche con dei picchi dell'84% ed è molto perché adesso siamo un po' in un'ottica della produzione di biometano, quindi un metano che può contenere soltanto un 3% di nitride carbonica e chiaramente più il biogas è ricco in metano e meno deve essere trattato, pulito e meno è il costo diciamo della sua trattamento per ottenere il biometano. Incrementando la quantità di substrato osserviamo anche un incremento della componente microbica in termini di densità cellulare e in termini anche di microorganismi che sono proprio quelli adibiti alla produzione del metano che sono i metanogeni, gli archia metanogeni. Quindi possiamo utilizzare anche i gusci di gamberi per migliorare la produzione di biogas? Probabilmente sì e questo è molto interessante perché l'Italia è un paese che sviluppa una grande quantità di coste e lungo le coste c'è la produzione locale di prodotti che derivano dai gamberi e come pure ci sono però anche dislocati moltissimi impianti a biogas che molto spesso vanno un po' in deficit di scarti e quindi noi sappiamo che possono essere utilizzati anche i gusci di gamberi quindi invece di utilizzare dei materiali che derivano da produzioni terrestri possiamo anche spingerci verso quelli di produzione marina anche perché tra le altre uno degli inoculi che noi utilizziamo per arricchire la comunità microbica deriva appunto da un ambiente salmastro, lagunare e quindi non si impressiona diciamo di fronte a una certa quota di salinità nel processo di gestione anaerobica.